delle prossime sfide della politica viste da Milano Andrasilla. Violenza in classe, bullismo, offese, servono soluzioni diverse. Una cosa che mi è sempre sembrata interessante sono i lavori socialmente utili. A Milano all'iniziativa Direzione Nord, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara propone i lavori sociali per gli studenti che non rispettano le regole. Quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare lavori socialmente utili. La proposta non piace ai sindacati. Secondo Francesco Sinopoli della CGL Scuola, una visione arcaica e paternalistica. A Direzione Nord, anche il ministro dell'ambiente Picchetto Fratine, quello per la disabilità Locatelli, l'occasione per riflettere sulle prossime sfide della politica viste da Milano. Ci sono cambiate il governo, ci sono cambiate anche le situazioni socio-economiche, c'è la guerra, è finita forse, speriamo, la pandemia e su questo noi dobbiamo confrontarci. Tra queste sfide, la questione energetica. Il tema della crisi energetica deve essere risolto con risolutezza, guardando però anche al domani. C'è questa manovra economica dove vengono investiti miliardi per tutelare aziende e famiglie, dall'altra parte però dobbiamo guardare anche a risposte di medio e lungo termine. Proprio sull'energia il ministro dell'ambiente Picchetto Fratine indica la priorità. in estate, dice, bisogna costruire riserve e stoccaggi e essere pronti per il 2023.